Annabeth La cosa più assurda? Il drago era sicuramente la creatura più bella che Annabeth avesse visto da quando era precipitata nel tartaro. Aveva la pelle screziata di verde giallo, come la luce del sole che filtra fra le chiome degli alberi in una foresta. I suoi occhi da rettile erano della tonalità verde mare che Annabeth preferiva, proprio come quelli di Persi. Quando il drago dispiegò il collare membranoso intorno alla testa, Annabeth non poteva evitare di pensare quanto fosse regale e meraviglioso il mostro che stava per ucciderla. Era lungo almeno come un vagone della metropolitana. I suoi giganteschi artigli sprofondavano nel fango mentre si trascinava avanti, sferzando la coda da una parte all'altra. Sibilò, sputando oggetti di veleno verde che fumavano sulla superficie ricoperta di muschio e incendiavano i fossi di catrame, riempiendo l'aria del profumo di pino e zenzero freschi. Il mostro aveva perfino un buon odore. Come gran parte dei dragoni, era privo di ali ed era più lungo e serpentesco di un drago. E sembrava famelico. «Bob, cos'è questo affare che ci troviamo davanti?» chiese Annabeth. «Un dragone meoniano», rispose il titano. «Della meonia!» «Un'altra informazione utile?» Annabeth avrebbe colpito Bob in testa con la scopa, se fosse stata capace di sollevarla. «Ce l'abbiamo un modo per ucciderlo?» «Chi, noi?» Bob scosse il capo. «No!» Il dragone ruggì come per sottolineare il concetto, riempiendo l'aria di altro veleno al profumo di pino e zenzero. «Sarebbe stato un deodorante fantastico per l'auto!» «Porta Persia al sicuro!» disse Annabeth. «Lo distraggo io!» Non aveva idea di come avrebbe fatto, ma non c'erano altre scelte. Non poteva lasciar morire Persi, finché avesse avuto la forza di reggersi in piedi. «Non ce n'è bisogno!» ribatte Bob. «Tra poco...» Annabeth si girò, mentre il gigante emergeva dalla capanna. Era alto quasi sei metri, tipica altezza da gigante, con il busto umanoide e le zampe squamose da rettile come un dinosauro bipede. Non aveva armi. Invece di un'armatura, indossava una maglietta di pelli di pecora poa di cuoio verdi. Aveva la carnagione rosso ciliegia. La barba e i capelli color ruggine erano intrecciati a ciuffi di erba, foglie e fiori di palude. Gridò in tono di sfida, ma non guardava Annabeth. Bob la tirò via appena in tempo, mentre il gigante si scagliava contro il dragone. Si scontrarono formando una strana scena di combattimento dalle tinte natalizie, verde contro rosso. Il dragone sputò veleno. Il gigante si lanciò di lato, afferrò la quercia e la strappò da terra, con le radici e tutto. Il vecchio teschio si polverizzò, mentre l'immensa creatura sollevava l'albero come una mazza da baseball. La coda del dragone afferrò il gigante alla vita, trascinandolo verso le zanne di grignanti. Ma non appena fu a tiro, il gigante gli infilò l'albero dritto in gola. Annabeth si augurò di non dover mai più vedere una scena del genere. L'albero trafisse il gargarozzo del dragone e lo inchiodò a terra. Le radici cominciarono a muoversi, e una volta toccata terra, scavarono in profondità ancorando la quercia al terreno, finché non sembrò che crescesse lì da secoli. Il dragone si scosse e si dimenò, ma era inchiodato ben bene. Il gigante gli mollò un pugno possente sul collo. Crac! Il mostro si accasciò. Cominciò a dissolversi, lasciando solo brandelli di ossa, carne e pelle, e un nuovo teschio di dragone, le cui mandibole spalancate cingevano la quercia. Bob grugnì. Bel colpo! Il gattino fece le fusa in segno di assenso e cominciò a leccarsi le zampe. Il gigante prese a calci i resti del dragone, esaminandoli con aria critica. Le ossa non vanno bene, si lamentò. Volevo un bastone da passeggio nuovo, no? La pelle, però, è perfetta per il gabinetto. Strappò un po' di pellame dal collare del dragone e se lo infilò nella cintura. Annabeth avrebbe voluto chiedere al gigante se utilizzava davvero la pelle di drago come carta igienica, ma cambiò idea. Bob, che ne dici di presentarci? Annabeth? Il titano diede un colpetto sulle gambe di Percy. Lui è Percy! Annabeth si augurò che Bob stesse scherzando, ma dalla sua espressione non trapelava niente. Strinse i denti. Mi riferivo al gigante. Hai promesso che poteva aiutarci? Promesso? Il gigante distolse lo sguardo dai resti di quanto aveva appena fatto e strinse gli occhi sotto le folte sopracciglia rosse. È una cosa grande, una promessa. Perché Bob avrebbe dovuto promettere il mio aiuto? Bob spostò il peso del corpo sull'altra gamba. I titani erano spaventosi, ma Annabeth non ne aveva mai visto uno accanto a un gigante. In confronto a quello che aveva appena ucciso il dragone, Bob sembrava un anerottolo. Damazena è un gigante buono, disse Bob. È pacifico. Cura gli avvelenamenti. Annabeth guardò il gigante, che stava strappando a mani nude pezzi di carne sanguinolenta dalla carcassa del dragone. Pacifico, mormorò. Sì, lo vedo. Carne buona per la cena. Damazeno si mise dritto e osservò Annabeth, come fosse un'altra potenziale fonte di proteine. Entrate! Ci facciamo uno stufato. Poi ci occuperemo di questa promessa. Poi ci occuperemo di questa promessa.